Nessun peso per noi è leggero. Non siamo più capaci di impegnarci seriamente e vogliamo evitare di essere coinvolti. Ci sentiamo sempre stanchi, stanchi fisicamente, fiaccati nello spirito. Perché? Perché non vogliamo trovare ristoro tra le braccia di Gesù. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Ma Gesù ci invita anche a portare sulle spalle il suo gioco. No, non sarà pesante, né ci infiaccherà corpo e spirito. Il gioco di Gesù è quello del servizio al prossimo, strettamente legato con l'amore. L'amore, l'umiltà e l'amitezza sono la chiave per aprire tutto. Ci donano entusiasmo e gioia di vivere. Azzerano qualsiasi stanchezza. Se possiedi l'amore, se ami e ti senti amato, di quale altra felicità avrai bisogno? Come vivi la virtù dell'umiltà nella vita di ogni giorno? Nei problemi e nelle difficoltà, sai essere unite ed aspettare i tempi di Dio?